Entriamo nella seconda fase del progetto di ingiovanimento. È stato aperto il lavoro con il primo evento che si è fatto a Firenze e in questi mesi ho lavorato per poter realizzare e quindi presentarvi quello che è un po' il progetto completo per il 2019. Il 2019 sarà un anno importante come società Quantum Lens e come personalmente per il mio lavoro personale vedrà proprio l'espansione di tutto questo approfondimento e questa sperimentazione per quanto riguarda il vivere una vita sia più lunga ma soprattutto in salute, quindi con un benessere percepibile che sia quotidiano. Per far questo è importante avere un programma nel senso che dal momento in cui abbiamo tutti tante informazioni, quello che spesso manca la messa in pratica di queste informazioni in una maniera efficace ed efficiente, sia perché essendo tante si può disperdere energia nella ricerca dell'informazione giusta e soprattutto poi manca alcune volte la capacità di trasferire queste informazioni in una pratica, in un qualcosa di quotidiano che vada realmente a modificare il nostro stato. E la scienza ce lo sta dicendo, ce lo sta dicendo in tantissimi modi. Abbiamo quindi un confluire adesso di una ricerca scientifica avanzata che comunque procede a passi che sono dettati da quello che è possibile dimostrare, vedere, percepire con gli strumenti che sono di sostizione, con quella che invece è quindi un incontro con quella che è la ricerca più avanzata nel potenziale dell'essere umano che si appoggia appunto su quello che sono queste capacità innate che possiamo risvegliare o che possiamo amplificare e che ancora non sono testabili. Quindi il progetto ringiovanimento e il processo che andremo a vivere unirà gli due aspetti, quindi l'aspetto della scienza avanzata dell'interiorità e dell'essere umano nella sua globalità e quindi l'utilizzo di pratiche, metodiche, esperienze che possono innalzare il nostro stato di benessere e espande la nostra coscienza e quindi avere un riflesso positivo sul corpo, insieme all'aspetto più concreto, pratico e se volete anche più diffuso, che riguarda strumenti e strategie che vanno ad aiutare il fisico. Quantum Lens nel progetto ringiovanimento vuole creare la possibilità di avere un gruppo di studio, un gruppo di lavoro continuativo a cui si può accedere. Questo gruppo di lavoro e gruppo di studio è fatto da persone come me che possono essere coordinatori, ma altri professionisti che possono venire da diversi ambiti, ma soprattutto quindi costituire uno spazio, una banca dati in cui entrando la persona già può trovare le informazioni che possono essere più importanti. Quindi se una persona è più interessata alla meditazione può trovare accesso a quelle informazioni che riguardano questo argomento, la persona che invece può essere più interessata all'alimentazione o altri tipi di, sì, di esperienze, di strade che possono dare beneficio nell'ambito del ringiovanimento, possono avere accesso a queste informazioni. Ma il fatto di averle in un unico contesto e soprattutto creare questa condivisione tra i partecipanti in maniera continuativa amplifica il loro potenziale. Creare questa comunità è un passo, creare questo gruppo è fondamentale, all'interno del quale vi saranno alcune cose che daranno un po' di ritmo. Ci sarà intanto un webinar mensile che, diciamo te lo io, ma vedrà anche ospiti e possibilità di quindi arricchire lo stimolo con quello che altre persone potranno dare nel loro specifico modo e vi sarà un insieme di informazioni che appunto, come ho detto, fanno parte di questa banca dati e possono essere divulgati tramite newsletter, video e altro materiale. In più, quello che sarà un mio intento è offrirvi quello che è la ricerca in questi ambiti più avanzata offre. Per far questo farò io stesso un'opera, un po' come ho fatto in altri settori, un'opera di ricerca, di incontro con le persone e quindi intervistandole, invitandole, fornendovi materiale affinché possiate lavorarci, ma soprattutto in questo ritmo dettato da questi eventi che possono essere appunto i webinar, diciamo materiale, newsletter, eventi dal vivo, uno è già fissato per maggio del 2019 ma ne saranno diversi, realizzare proprio un percorso continuativo. Perché dal punto di vista dell'efficacia di qualsiasi tipo di strumento che noi utilizziamo, la cosa veramente importante è far sì che diventi quotidiano. Nel momento in cui parlo di quotidiano non parlo di una tecnica rigida, non parlo qui di qualcosa che si inizia e viene portato a termine in maniera identica, ma parlo invece di quello che ho chiamato il proprio ciclo dell'ingiovanimento, cioè quindi la creazione di un proprio sistema flessibile, permeabile alle novità che possono entrare e che nel frattempo ci dia vantaggio. Grazie per la visione!